Partecipazione, un fattore decisivo nel buon governo del territorio. Da domenica 27 novembre parte il progetto delle quattro giornate per la differenziata, iniziativa che coinvolge cittadini, associazioni, scuole, istituzioni, parrocchie, commercianti e aziende, nella diffusione di buone abitudini sulla raccolta differenziata e sullo smaltimento dei rifiuti. Finora i napoletani hanno aderito al piano di raccolta con comportamenti virtuosi. Nei quartieri dove è già attivo il porta a porta, che attualmente riguarda 300.000 cittadini, la differenziata si attesta su una media superiore al 70%, un risultato piuttosto incoraggiante anche perché ottenuto con le sole forze della città. Quattro giornate, quattro domeniche, nelle quali inaugurare dei comportamenti da ripetere tutta la settimana, una domenica sulla carta, una domenica sugli imballaggi, una domenica sul vetro, una domenica sull'organico, per migliorare ancora la nostra raccolta differenziata. I rifiuti siamo noi, siamo noi che li produciamo e quindi per risolvere il problema dei rifiuti dobbiamo cambiare i nostri comportamenti, fare sì la raccolta differenziata, produrne di meno e comportarci correttamente. Il governo Berlusconi ha aiutato Palermo, Catania, Roma con Alemanno avuto, Milano con Lamoratti ha avuto. Oggi noi salutiamo con giubilo l'uscita di Berlusconi e con fiducia alla nasce del nuovo governo. Fare raccolta differenziata, risolvere il problema dei rifiuti, fare impianti costa e noi abbiamo diritto a quella parte dei fondi europei destinati alla città di Napoli, ai fondi regionali, ai fondi statali che finora non sono arrivati. Bisogna smentire risolutamente certi luoghi comuni che demotivano le persone, come quello secondo cui i sacchetti della raccolta sarebbero poi sversati nell'indifferenziato. È falso, protesta Raffaele del Giudice, consigliere di Asia. Sulla relazione del commissario europeo all'ambiente Potocnik, che critica la gestione degli ultimi anni del ciclo dei rifiuti in Campania, l'assessore all'ambiente sodano respinge le allusioni di una parte della stampa rivolte all'attuale situazione napoletana. C'è il tema dell'impiantistica insufficiente, delle discariche che non sono state aperte, che servono ancora una fase intermedia, c'è bisogno degli impianti di compostaggio di cui non c'è traccia nel piano regionale e ha fatto il quadro della situazione dei rifiuti in Campania dei 17 anni passati e di un'infrazione che nasce nel 2007. In quella infrazione uno dei problemi più seri è quello dell'Ecobal, rispetto ai quali la regione dovrebbe dire qual è il suo piano, qual è il suo programma. L'iniziativa delle quattro giornate proseguirà ogni domenica in tutta la città fino all'11 dicembre.